La ballerina professionista ho sempre sognato di tornare da mia realtà e creare qualcosa di grande un punto di riferimento per cui vuole studiare danza in modo professionale E' importante trovare il posto giusto dove studiare danza ed io l'ho trovato Sogno di fare danza da quando sono piccola e sono molto contenta di essere qui Mi piace che c'è stato pratico con gli insegnanti a lavorare con i nostri Mi piace come si dà buona il gruppo ci impegniamo duramente ma con grandi risultati Mi chiamo Giunta io da grande voglio fare ballerina Quando danza mi sento felice In un momento ho preferito quando salvo sul palco e quando vinciamo le compie Oltre l'altro è una scuola professionale I miei tentori sono orgogliosi dei risultati che ho raggiunto L'insegnante riesce a tirare polime di noi Mi piace la massa Per me è una soddisfazione notare i loro progressi da quando iniziano a quando sono pronti per la prima espressione Per me è una soddisfazione notare Per me è una soddisfazione notare i loro progressi da quando iniziano a quando iniziano a quando iniziano a quando iniziano a quando Grazie a tutti